Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale Torniamo su StrangerVille nel secondo episodio della nostra miniserie Il mistero di StrangerVille che abbiamo cominciato nello scorso episodio Con la nostra nuova unità familiare Composta dal nostro Peter Plante e dalla sua enormissima bestia ovvero Attila Ma perché cominciamo dalla mappa di StrangerVille? Beh ragazzi in questo episodio non giocheremo credo con il nostro Peter Ma voglio andare da un'altra unità familiare Come vi ho detto questo gameplay sarà dinamico, diverso Vedremo diverse famiglie e vedremo il game pack da tutti i punti di vista E per farlo mi sono chiesto Io devo cercare di salvare la città dai sim infetti Ma com'è usare un sim infetto? Per farlo ragazzi andiamo a casa del sindaco Voglio utilizzare i Roswell Voglio vedere un po' come sono questi sim perché sono abbastanza sicuro che siano infetti Lo so per bene e quindi direi che possiamo vedere il tutto dal loro punto di vista E arriviamo così a casa dei nostri due simpaticoni Che sto notando non sono infetti ma seri? Eh devo capire un po' di robe Intanto vi ricordo che il nostro Peter Plante ha cominciato la carriera da militare Sta anche per ricevere una promozione ragazzi Quindi da quel punto di vista andremo avanti Ma oggi voglio utilizzare questi sim Perché io sono abbastanza sicuro che siano infetti Vediamo un po' Paranoico ragazzi Nuovo tratto per il nostro sindaco I sim paranoici avvertono il pericolo dietro ogni angolo E credono che gli altri stiano sempre parlando di loro Si sentono al sicuro quando si trovano in uno scantinato Tratto della personalità Ok E infatti ragazzi lo è infetto Per aver consumato spore o un frutto bizzarro I sim infetti sono rimasti esposti all'infezione di Strangerville E potrebbero assumere strani comportamenti E addirittura diventare posseduti Ora a questo punto suppongo che diventino posseduti strani, scemi Chiamateli come volete Solo a certe ore in realtà A certi momenti della giornata Lui è anche malvagio Testa calda Vediamo un po' lei come se la passa Ciao mogliettina Ordinata, buona, estroversa Sapienza, affaristica E non è infetta lei Urca, deve essere bello Dividere il talamo col simpaticone Talamo non direi Perché come vedete hanno una signora casa Con anche uno scantinato Intanto vediamo un po' come è fatta la casa Hanno una camera per ragazzi E la cosa è buffa dal momento che Lei non è incinta E non hanno neanche bambini Interessante Poi abbiamo pianoporti Abbiamo la sala da pranzo Abbiamo una cucina di tutto rispetto Un pochino spoglia la casa Ma ci sta Abbiamo anche il salotto Una libreria Abbiamo un bagno Abbiamo un secondo piano ragazzi Fatto da una, due, tre camere da letto matrimoniali Più una sorta di studio con un tavolo Notare anche tutti gli oggetti nuovi Abbiamo altri studi Molto bene Vi voglio far vedere la casa Dall'esterno ragazzi Guardate un po' quanto è bella questa casa Molto grande Vittoriana Bella piena di robe Da qua vediamo anche la casa del nostro protagonista Guardate un po' C'è in casa Vediamo un po' se riusciamo a beccare Il nostro Peter E a casa In realtà l'ho lasciato a giro Quindi probabilmente ancora in giro Infatti non si vede nessuno Però torniamo dai nostri sim Intanto Vediamo un po' chi abilità ha il nostro sindaco Carisma 5 Giardinaggio 7 Logica 4 Urca Voglio vedere però cosa c'è al piano inferiore Zan 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 Abbiamo delle cose da leggere Eh lui si è informato tanto eh Cerca prove Sembra che qui non ci sia niente di utile Per il momento La sua aspirazione è favolosamente ricco Mentre la sua è sempre favolosamente ricca Perfetto Hanno 20.000 simole in realtà Non hanno niente di che Ma visto che lui è infetto Osserva Scatto una foto Vediamo un po' Ok La foto l'abbiamo Vediamo un po' come si approccia un sim infetto ad altri sim Anche perché ci servono delle prove Sì invece vado a fare delle interazioni con lei Visto che sono infetto Abbiamo nuove interazioni Eh ragazzi c'è un mondo da scoprire Condivide teorie del complotto Questo lo vediamo perché è una Diciamo un'azione Un'interazione del nuovo tratto di Stringerville Vediamo un po' se lei è d'accordo Oppure se ci prende per scemo E non ci ha ancora visto Mentre camminiamo strani eh Poi ci prenderà comunque per scemo In ogni caso ad un certo punto Quindi tranquilli tranquilli Non abbiamo niente Condividi teorie del complotto Ma non abbiamo dei sintomi strani Almeno al momento eh Intanto vediamo un po' se Qua ci sono altre piante E questo lo so per bene Scatto una foto Osserva la pianta bizzarra Ne abbiamo davvero a bizzeffe Bizzarre e a bizzeffe Pensate un po' le rime strane Quelle strane Non belle Ok Per il resto però dobbiamo aspettare La notte Perché sta arrivando la notte E voglio capire Io l'ho visto Mentre facciamo lo scemo Di giorno Nello scorso episodio Abbiamo visto che era giorno Devo capire quando A che ora Lui diventa scemo Perché a questo punto Lui è infetto E devo capire Come portarlo all'esasperazione Ecco Diciamo che Il mio scopo In questo episodio È cercare di vedere Un siminfetto Nel caso vado a comprare Un altro frutto E lo mangio eh Chi se ne importa Voglio comunque vederlo Infetto in ogni caso Vediamo un po' Uh C'è uno scienziato Con uno scienziato Parla di StrangerVille Lo faccio Voglio capire se lo scienziato Mi può aiutare Anche a curarmi Da questa malattia Vediamo un po' Come funziona Tanto arriva Anche un altro scienziato Molto bene Parliamo anche di lui Di StrangerVille Vediamo un po' Cosa ci dicono Ho lavorato Al lavoratorio segreto Nel cratere Fino a poco tempo fa Al momento mi sto Concentrando Sulla cittadina Buona sapersi Perché anche Con il nostro Peter Dovremmo andare A fare delle domande La gente non dovrebbe Preoccuparsi Del lavoratorio segreto Nel cratere Ci lavorano elementi Di primo ordine Davvero Primo ordine Ok Sembrano un po' Vaghi E stanno cercando Di nascondere Un qualcosa Ah Vediamo un po' Intanto se la pianta Cambia Di qualcosa Pare di no Pare di no A questo punto però Io sono molto curioso Lui ha fame Oh bene E allora sapete che c'è Facciamolo diventare noi Un po' strano Questo sim Andiamo al banchetto E compriamo Assolutamente Quello che ci serve Ovvero Dei frutti strani Direi che andiamo da soli E vediamo un po' Che succede La notte degli orsi Va bene Questi sim Sono tutti normali Infatti abbiamo Il nostro Bershing Esatto Jor E qua abbiamo Una sim Abbastanza strana Ma di cosa mi stupisco Ok I militari Dovremmo anche chiedere I militari Abbiamo visto qualche interazione Con il nostro Peter Probabilmente andremo avanti Voglio però Comprare Dall'inventario segreto Non posso Compro un souvenir Assolutamente Voglio mangiare Il frutto strano Voglio capire Quando e come Lui mi diventa scemo Eh assolutamente Ma stava già mangiando Ma no Ma te lo do Io un po' Di roba da mangiare Dai facciamo così Grazie Questo lo mangio Mangia frutto bizzarro Lo può anche piantare Grazie Grazie di aver fatto acquisti Da souvenir Creazione e altro Nessuno mi chiede mai Cosa si riferisca Altro Comunque goditi I tuoi nuovi articoli E io me li sono goduti Se l'hai mangiato Macco Uh Le lucertole Quelle belle Talve Come la va Come la va Vediamo un attimo Se cambiano I bisogni Di un posseduto Non credo Esatto Però ha tutti i bisogni Al massimo Vuoi vedere che Quando è scemo Non mi cala Dei bisogni Beh non possiamo avere Tutto dalla vi Ta Eeeh Ok No ma sei carino Eh Fattelo dire Caro il mio sindaco Ma davvero tanto carino Eeeh Ok Devo andare a cercare Di fare uno screen Carino Per l'episodio Lo faccio Sarà divertentissimo Avere a che fare con lui Ora sono curioso Di vedere le interazioni Che ha un posseduto Rispetto ad altri sim Quindi Io che sono un posseduto No E dentro al bar Così tanto Per Esatto Ci sono gli orsi Così E vado da lui Stringerville Ti dà il benvenuto Andiamo a dare il benvenuto A Bjork Va bene Aspettate però Ciao Oh Una corsa Che davvero levati Ciao raghi Come va Sono il sindaco Sono scemo Come va la vita Eh Ma no Ma non vedete niente di strano Assolutamente Sto andando solo A dare il benvenuto Ciao Ciao Ok Perfetto Tu si che sei curbo Ok Vediamo un po' Lo stato morale Posseduto Per il tratto infetto La madre chiama E devo rispondere Più 7548 Punto 431 Cosa Non lo so Di che stanno parlando Perché è paranoico Or O di orso Per l'orso nei paraggi Va bene La madre sta chiamando Ragazzi Ora lui è posseduto Non abbiamo interazioni particolari O meglio Voglio capire Uh Un altro posseduto Fermi Come sono interazioni Eh Ok La madre ci sta chiamando Ciao Eh come va Esatto Come va Ciao Sì tutti storti È certo Eh sì Certo C'hai anche ragione Ovvio Ovvio Eh sì Certo Eh sì Esatto Esatto Mi pare il minimo Credo proprio che Queste conversazioni Dovrebbero riportarle Nel canale del National Geographic Perché si capisce tutto Allora Noi siamo posseduti Posseduti da qualcosa di strano Ma io Oltre a dare il benvenuto agli altri Posso in qualche modo Stile vampiro Fare qualcosa di strano No Sarò posseduto per tre ore E in queste tre ore Cosa posso fare Beh ragazzi Credo proprio Si è arrivato il momento Di vedere Dal punto di vista Di un posseduto Il nostro Laboratorio segreto Non voglio spoilerarmi Troppo ragazzi Lo raggiungeremo Perché comunque Lui ci dice Che la madre ci sta chiamando Non sappiamo ancora cos'è In realtà sì Ma lo vedremo Nei prossimi episodi Voglio vedere però Uno sguardo Dare uno sguardo Al laboratorio in toto Così vediamo un po' Cosa succede E poi capire Cosa possiamo fare con le piante Perché io le posso piantare Eccetera eccetera Ciao piante Ok A questo punto io M'aspetto Di trovarmi Intanto In una Radura Completamente Vuota Guardate un po' Siamo in un Cratere Ragazzi Bellissimo Abbiamo tante Di quelle piante qua Che la metà basta Con le piantine Che abbiamo qua Però per dire Ho delle interazioni Chiacchera con la pianta Aspettate Io sono infetto Ciao pianta Come la va La vita Sì Esatto Ui concina Con il nostro Alieno Sbarrato Sentite anche i rumori Del laboratorio Urca E' la pianta che dice Pianta bizzarra Silvestre Questa pianta bizzarra Emette un bagliore Insolito Come se fosse controllata Da un'altra Entità Sembra tra l'altro Che qualcosa Stia crescendo Al suo interno Ragazzi Pianta bizzarra Silvestre Radura Silvestre Urca Li hanno fatte davvero Bene le cose Stavolta Ragazzi Capiamoci Beh intanto qua Possiamo andare In basso Qua posso fare qualcosa No Se anche Illuminato Probabilmente ci servirà Avere una skill Molto molto grande Però Io qua posso Vedere qualche indizio Intanto diamo uno sguardo Al laboratorio Così molto molto velocemente Ok Non so se C'è qualcosa Da spoilerare Là sotto Qua abbiamo anche Delle cose Beh io posso Parlare alle piante Chiacchierà con la pianta Vediamo un po' Cosa ci dice la pianta Ciao pianta Sono tutto strano Che mi dici di bello Come va la vita Ok Lui è posseduto Ragazzi Ora C'è da capire Cosa c'è nel laboratorio Oh Tutto nascosto Guardate In pratica Il piano inferiore È fatto da queste cose Che nascondono E c'erano La verità Vado ancora Vado ancora più in basso Niente Vado ancora più in basso Niente E qui ragazzi Non mi fa vedere E la cosa mi piace Perché vuol dire Che non ci spoileriamo Il finale Del gioco Se anche Lo vorrò fare Con tutte le abilità Qua abbiamo anche Dei camion Diciamo Sì Dei mezzi militari Oh Questo mi piace Un sacco Ora lui sta per diventare Esatto Sta per tornare normale Manca un minuto E ora mi ritornerà normale È felice Vedo però Che quando sono posseduti Non calano di bisogni E questa è una cosa bella È molto bella Ok Osserva la pianta Va bene Ragazzi Abbiamo visto Un po' di interazioni strane Da posseduti In questo episodio È la cosa Mi piace particolarmente Perché volevo capire Anche dal punto di vista Di un posseduto Cosa si poteva fare Ovviamente Poi ci Resterà Di Ovviamente però ragazzi Dobbiamo anche leggere i libri Informarci Cosa è successo Lui è il sindaco È il sindaco Vi ricordo E il tratto infetto Ragazzi Rimane Quindi I sim infetti Sono rimasti esposti All'infezione di Strangerville Potrebbero assumere Strani comportamenti Ora A parte il fatto Che io L'ho indotto A diventare strano Credo che lui Di tanto in tanto Lo diventi L'abbiamo visto anche Utilizzando Peter Perché lui è infetto Quindi da quel punto di vista Non credo Si possa guarire Notare anche il faro Oh Molto bello E poi soprattutto Ho visto anche Lassù Una sorta di Porta Oh Questo mi piace Mi piace Non abbiamo nulla Che riguardi Il lotto O il laboratorio Però ragazzi C'è tanto da scoprire Oh Tanto direi che posso Rimandarla a casa Perché credo Stia cominciando Esatto Cominciano a scendere i bisogni Perché lui ora è normale Quindi Torniamo a casa Vediamo un po' Ancora qualche interazione E capiamo E capiamo Soprattutto Un po' Della storia Del nostro sindaco Eccoci qua ragazzi Vediamo un po' Intanto voglio capire Un po' Di storia Del nostro sindaco Sua moglie Per dire Come va Hanno una buonissima Relazione Questo mi piace Il sindaco poi dovrebbe essere Credo adulto Esatto E adulto L'immagine pubblica Non ce l'ama Non ci interessa Perché non sono famosi Assolutamente Lei ha anche acquisito L'abilità di logica Il che potrebbe essere Anche interessante Eh ragazzi Il sindaco Ha costruito Un migliorato Tante parti della città Ora vi faccio vedere Se riesco Dovrei riuscire Semplicemente Andando In modalità Compra e costruisci Se non erro Vediamo un po' Se è vero Dovrei trovare qua I tratti del lotto Vediamo un po' Altrimenti torno Alla minimappa No dovrebbe essere qui In realtà no Belvedere di StrangerVille Mi dà il tipo di lotto Ma non mi dà L'informazione Che mi serve Ovvero Intanto vediamo un po' Se qua hanno qualcosa No Perfetto Non hanno neanche Neanche oggetti Nel loro inventario In tutto ciò però Il mio Simpati Ciao Ciao Prova a parlare Con Stefania Esatto Lei è venuta qua A parlare con la pianta Sono tutti attratti Dalla pianta E la cosa Mi sconvolge Un po' Ok Il suo nido È avvolto Dalla bellezza Non ne siamo degni Fai tornare in sé Io riesco a far tornare in sé Un sim Sì Ce l'ho fatta ragazzi È tornata in sé E infatti Ora posso parlare Con lei di StrangerVille Quindi io posso Far tornare in sé I sim Non ce l'abbiamo fatta Con Peter Ma Con lui sì Che sta facendo Si sta flertando Ah no Perfetto Quindi Schiaffeggiando Ritornano in sé Buono a sapersi Questo Buono a sapersi Perché a questo punto Lei che è infetta Io l'ho fatta tornare in sé Posso chiedere qualcosa Di StrangerVille Perché magari Da infetto Mi può dare informazioni Che un sim Normale Non mi dà Infatti Gli altri sim Come vedete Ci dicevano di non andare Al laboratorio segreto Perché stavano nascondendo Delle cose Invece lei che è infetta Ci dice Dovresti proprio visitare Il laboratorio segreto Ho saputo che là dentro Accadono strane cose Dovresti riuscire Di intrufolarti Ora leggiamo di nuovo Se non ricordo male Passando dal cancello Posteriore Quindi ragazzi Sì Lei ci invita Ad andare Ed è infetta Quindi lei vuole Che noi andiamo Al laboratorio E questa dinamica È molto importante Lo rivedremo probabilmente Come vi ho detto Con il nostro Peter Perché andremo davvero A rompere le scatole A tutti Dobbiamo anche posizionare Delle spie Delle cimici E soprattutto Vedere un po' Come si comportano i sim C'è tanto da fare ragazzi Ma volevo in questo episodio Vedere un po' La vita da infetto Utilizzare un infetto Per capire Cosa succedeva La cosa che un po' Mi perplessa È vedere Pianta bizzarra Silvestre Non vorrei che tutto questo Fosse legato Alla radura Silvestre Non credo ragazzi Però in ogni caso Potremmo anche fare Una capatina E magari teorizzare qualcosa Che riguarda la storia Di Stranger Hill Detto ciò però ragazzi Vi dico che per questo Secondo episodio È tutto Io spero che vi sia piaciuto Nel prossimo Torniamo ovviamente Da Peter E dal nostro Attila E proseguiamo le ricerche Andiamo a lavoro Cerchiamo di skillarci E prendere promozioni Ma soprattutto Cominciamo ad andare in giro A chiedere un po' Di informazioni Perché il sindaco È corrotto Infetto E abbiamo visto Come si comporta Un siminfetto Abbiamo capito Che non c'erano i bisogni E che può E deve E vuole Parlare alle piante E soprattutto Quando si fa tornare in sé Un siminfetto Lui ti invita Ad andare al laboratorio A differenza di tutti gli altri Ad esempio i militari O gli agenti governativi Che ti rubano il frigo Ma soprattutto Cercano di insabbiare le prove Tenete a mente questo Perché è molto molto importante Detto ciò però ragazzi Vi do l'appuntamento Ai prossimi video Ricordandovi Di lasciare un mi piace Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se ancora non vi siete iscritti E vi lascio Come sempre Il pulsante per iscrivervi All'altro video Vi do l'appuntamento Alla prossima E vi dico Ciao a tutti